Marco, qui non c'è futuro, lo sai? E Matteo? Lui viene con me. Il futuro ce lo facciamo giorno dopo giorno. Martina! Conosce la residenza della signora nel suo paese d'origine? No. In questa città siamo 6 milioni di persone e se la madre del tuo figlio ha deciso di sparire sarà difficile di trovarla. Grazie a tutti.